Io sono stato sul Dimbadoni nel 1982 e come capofficina del reparto locomotori. Il lavoro sui locomotori è amplia in tutti i campi, nel campo delle tubazioni, nel campo dei motori. Dopo tre mesi di cassa integrazione mi hanno spedito a Domodossona dove abbiamo costruito una Maria di Capanoni, un lavoro che l'ha voluto un ministro della socialdemocrazia per dare lavoro in zona, però non è servito a niente. Il Dimbadoni, secondo il mio punto di vista, quando sono entrato c'era un clima di lazaronismo perché a livello sindacale appoggiavano questi lavoratori, tant'è che per esempio nel mio reparto dove c'era gente che era specializzata a livello elettrico, erano due, tre, quattro persone e al mattino, non so, si cominciava il lavoro alle otto e queste persone non si vedevano. Dov'erano? erano al gabinetto leggendo il giornale, la cancetta, tant'è che una volta sono salito sul... però non ho potuto, diciamo, non ho potuto fare eventuali denunce perché altrimenti mi avrebbero e mi avrebbero anche criticato.